In risposta a quanto affermato ieri dai sindacati, è giunto il comunicato della Copp'Altogarda. All'incontro di ieri, la dirigenza ha messo sul tavolo la necessità di ridurre i costi e avere maggior flessibilità organizzativa, oltre ad introdurre un sistema di premio variabile e che coinvolga il personale. Per contro, la piattaforma proposta dai sindacati vuole ripristinare tutti i benefit dell'accordo del 2015 e addirittura aumentarli. Questo significa che non è ancora chiara la situazione di difficoltà, dice l'azienda. Oggi la priorità è garantire continuità e tutelare i posti di lavoro. Non si può dunque partire dall'accordo esistente e renderlo ancora più oneroso. Nell'impossibilità di trovare un terreno condiviso di confronto, il tavolo di contrattazione si chiude. Copp'A ha sottolineato che, dato il momento di difficoltà economica e di forte competizione nel settore, occorre mettere in atto iniziative per coinvolgere gli stessi lavoratori e, in tale direzione, gli accordi collettivi devono potersi adeguare alle situazioni. La piattaforma presentata da Copp avrebbe previsto diminuzione del part-time, al momento al 42,33%, che determina forti rigidità organizzative. Per il lavoro domenicale e festivo, introduzione di un meccanismo premiante. Più il lavoratore è disposto a coprire questo tipo di turni, più aumenta la sua maggiorazione oraria. Avere flessibilità per la gestione delle variazioni dell'intensità lavorativa è importante per le località turistiche. Le richieste sindacali, dice Copp'Altogarda, sono inaccettabili perché non solo mantengono inalterati i costi dell'accordo di rilancio del 2015, ma alzano ulteriormente la sticella. Dopo mesi in cui si è cercato di far capire che la cooperativa doveva recuperare efficienza, la richiesta che arriva al tavolo appesantirebbe i costi rispetto all'accordo attualmente in vigore. Le visioni restano dunque diametralmente opposte e non ci sono gli elementi per proseguire la contrattazione.